Avvicinare giovani e meno giovani al mondo della musica lirica, considerato di nicchia, è uno degli obiettivi del primo concorso internazionale di canto lirico Federico II. Una tre giorni che prenderà il via domani 30 novembre ad Andria, organizzata dall'Accademia Musicale Federiciana, patrocinata dalla provincia BAT, dai comuni di Andria e Canosa, è presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco di Andria Nicola Giorgino, l'assessore alla cultura Antonio Nespoli e i responsabili dell'Accademia Agnesa Festa e Michele Lorusso. Un evento che vedrà la partecipazione di ben 40 artisti, non solo italiani. Si svolgerà in tre fasi, la prima fase che inizierà proprio domani, che è la fase eliminatoria dove i 40 candidati provenienti da tutta Europa arriveranno qui nella nostra città, esattamente nell'Accademia Federiciana e potranno sostenere la prima prova che consisterà nel dover eseguire due aree e saranno ascoltati da una commissione d'eccellenza e poi passeranno ad un'ulteriore fase il giorno successivo dove quelli che hanno superato la prima fase eliminatoria andranno alla semifinale. La terza fase si svolgerà in teatro a Canosa, un teatro vicino ad Andria, perché abbiamo dovuto utilizzare il teatro come luogo migliore per questo tipo di musica e lì saranno assegnati i premi previsti dal bando. La città di Andria diventa prodo e tappa di una kermesse musicale di notevole spessore. Generalmente si identifica il mondo del canto lirico come un mondo molto lontano, soprattutto lontano dai giovani e magari anche perché ad Andria lo dimostrano appunto le 40 iscrizioni, gente da tutto il mondo che viene qui per questo concorso, affascinati anche da continue richieste di poter vedere il Castel del Monte e veramente ci emoziona perché poi forse quello che noi abbiamo da vicino non sempre ci ricordiamo di apprezzarlo e di averlo e c'è un ritorno perché molto spesso si pensa alla musica, soprattutto la classica, che può dare a una città come Andria. Beh, 40 iscrizioni sono 40 persone che alloggiano, che mangiano, che vado un po' sul pratico, 40 persone che vivranno la nostra città in questi tre giorni. Una nuova occasione per la città di farsi conoscere e apprezzare, ha commentato l'assessore Antonio Nespoli. Un concorso internazionale che richiama nella nostra città e nella città di Canosa 40 gruppi di caratura internazionale provenienti da tutte le nazioni, anche da quelle che sono patria del canto lirico. Quindi un'occasione importante di sviluppo culturale ma anche di promozione del nostro territorio.